Si sono date ad una precipitosa fuga con l'auto per sfuggire ad un controllo dei carabinieri, ma ne è nato un inseguimento per le vie della vallata al termine del quale i ladri sono finiti fuori strada con la macchina finendo in un terrapieno e poi sono scappati a piedi nelle campagne svanendo nel lulla. È successo in Casentino, tra strada e poppi, quattro i componenti della banda che sono riusciti a sfuggire dopo una rocambolesca fuga con i militari alle calcagne. I carabinieri nell'auto hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, sono così riusciti a risalire anche ad un prestanome irreperibile in Italia che è stato denunciato per aver intestato fitiziamente ben 24 veicoli nel milanese. Le auto, a lui riconducibili, erano già state individuate in provincia di Monzabrianza, Brescia, Piacenza e Mantova sempre nell'ambito delle indagini relative a rapine e furti con destrezza, in particolare quelli con la tecnica dell'abbraccio. Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri per stringere il cerchio attorno ai quattro malviventi.